Parlo dei bandi che riguardano lo sportello startup di Sardegna Ricerche, quindi lo sportello che ha come obiettivo quello di supportare le iniziative imprenditoriali innovative. Diciamo che di recente abbiamo completato il set di strumenti a disposizione di chi vuole cimentarsi con una startup innovativa e quindi ai due primi bandi che intervenivano nella fase più embrionale di un'idea, che quindi consentivano ai team di sviluppo di avviare una propria idea e validarla anche sul mercato, abbiamo aggiunto di recente, quindi oltre al mini voucher insight che assegna 10.000 euro a gruppi di giovani startup e al voucher startup che invece consente l'avvio dell'iniziativa imprenditoriale con la possibilità di spendere fino a 100.000 euro un nuovo programma, è un programma che si rivolge alle startup che hanno già percorso un piccolo pezzo della loro vita, che sono arrivati a definire un prototipo, che hanno sperimentato il loro modello di business e che vogliono replicarlo in altri contesti più ampi, quindi uscire dal contesto regionale verso mercati più evoluti e più ampi anche da un punto di vista territoriale. È un bando che finanzia quindi dei piani di sviluppo produttivo e commerciale fino a importi importanti, fino a 700.000 euro di piano con contributi consistenti, quindi diciamo che danno un supporto veramente consistente a chi voglia davvero passare da una fase di startup a un'impresa vera e propria.